È arrivato l'autunno e come ogni anno, nel decimo municipio, si presenta il problema delle caditoie. Passano le amministrazioni, restano le promesse e soprattutto compare un tappeto di foglie che invade le strade del litorale. Le immagini si riferiscono a Viale della Pineta di Ostia, siamo a pochi passi dall'isola pedonale e a Piazza Sancomarzio, in pieno centro urbano. Non sono state effettuate opere di disostruzione dei tombini e questo è il risultato. Quanto deprimente, tanto scontato. Le foglie cadono dagli alberi, non vengono rimosse, nelle giornate di pioggia nuotano sopra le pozzanghere e impediscono all'acqua di defluire. Lo stesso scenario si verifica in tutta la sua drammaticità in Piazza Sagona, Via dei Galeoni, Via Vannotelli e in tante altre strade dell'entroterra. I residenti sono molto preoccupati della situazione e sperano in interventi risolutivi che erano stati promessi già un anno fa. dalla presidente del decimo municipio, Giuliana Di Pillo.